Amici di Sportland, benvenuti al centro sportivo Bettinelli, dove sta per andare in scena la prima giornata del campionato di calcio a 7 over 35, girone B, di fronte a Football Passion di Nemar Zaga. Vediamo chi avrà la meglio. Intanto attenzione, la conclusione è da fuori, c'è il gol di Football Passion che sblocca la partita. Giorgi, dalla distanza, la sblocca. Attenzione, palla dentro e arriva il raddoppio di Football Passion con Ricchizzi che sottoporta, mette dentro. Attenzione, pallone dentro per l'inserimento, il gol facile facile in tap-in. Top corto per Pozzi che va in porta con il mancino e c'è la grande risposta di Negri in calcio d'angolo con Faedda che apre per il destro in porta tentato da Barile che poi in tap-in mette dentro. Che va alla conclusione e tocca il bellissimo, quello di Zardi. La palla dal dischetto col mancino e non sbaglia. Attenzione, pallone diventa buono per Cardinale che tocca dentro. Per il destro e la palla in rete. Attenzione, colpo di testa e la palla in rete con questo grande stacco. Cardinale cerca spazio per la conclusione. Poi va in porta e trova il gol. che crossa in mezzo. Poi la conclusione in porta e il gol da parte di Serrone. Tocca per Giorgi. Giorgi dentro per l'appoggio. Il gol meraviglioso da parte proprio di Ricchizzi. Tanto qui ancora alza nel spettacolo di Football Passion. con il pallone dentro. Il tocco facile, facile. Ancora da parte di Ricchizzi. Tanto qui palla dentro. Ancora per Ricchizzi sinistro. E ancora gol di uno scatenato numero 9. Tanto qui attenzione, contro piede di De Marzaga. Con la palla dentro. Il tap in facile facile da parte di Parile. Tanto qui la conclusione. La palla in rete. Tanto qui il colpo di testa. E la palla in rete. Svetta cardinale. Goal intanto di De Marzaga. E finisce qui. Finisce con il successo di Football Passion. Sudino e Marzaga per 13 a 4. Siamo qua con Rodolfo Ricchizzi. Oggi grande partita di Football Passion. Vi siete divertiti. Tante ball calcio. Tante belle azioni. Le tue sensazioni? Visto che era la prima giornata. Abbiamo fatto qualche innesto. Vogliamo ripeterci un po' sui livelli dell'anno scorso. Dove abbiamo giocato un buon calcio. Ci siamo divertiti. L'importante è sempre ritrovare un po' gli amici. Il gruppo. E perché no vincere insomma. Vi ho visto che gli innessi sono inseriti molto bene. A sprazzi calcio spettacolo. Vi ho visto tante azioni di prima. I meccanismi già si stanno agliando bene. Siamo una squadra di ragazzi che ha sempre giocato a calcio. Quindi il calcio si sa una lingua sola. Insomma quindi ci troviamo bene. Abbiamo giocato anche a calcio insieme negli anni passati. Quindi ci viene in tua faccia insomma. Complimenti alla prossima. Ciao. 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 Ciao.